Benvenuti in questo nuovissimo video! Beh Simone, nuovo video! Non sei felice? Sono felice! Ma cosa fai con questa cosa? Stavo giustamente... Simone, per favore, vuoi uccidermi? Posiamo volerlo per terra? Dai! Fammi ad oggi, per favore! Ok, allora! Questo è un nuovo video, come abbiamo già detto per la trentacinquesima volta E cosa facciamo oggi in questo video? Oggi vedremo come realizzare un effetto con After Effects Quindi con Adobe After Effects Ma cosa faremo con esattezza? Direi che fa partire prima l'anteprima del video che andremo a realizzare oggi Via con l'anteprima Falla partire Simone, dai! Via con l'anteprima, dai! Via con l'anteprima Ok, come avete notato, si trova una composizione Adesso faccio tutto il tipo... composizione Quindi, andiamo avanti con il video Simone, fammi parlare per favore Qual è la particolarità di questo effetto? Si trovano le stelle dietro a questa scritta E si trova soprattutto un riflesso lente da vertigo Come abbiamo fatto a realizzare quel riflesso lente? Ok, Stefano, lo vedo direttamente nel... No, Simone! Dobbiamo dirlo! Dobbiamo dirlo! È importante! Ok, praticamente dovrete scaricare Ho un effetto che si chiama Optical Flores Naturalmente... Troverete il link del download nella descrizione del video Troverete un link del... Un link giù In descrizione Di un video che vi farà vedere come scaricarlo Naturalmente, diciamo che Questo effetto già esce di suo Però, cioè, se lo avete craccato bastardi Quindi, se lo avete craccato bastardi ancora Troverete il link in descrizione, insomma Oppure cliccate qui Ovviamente noi non lo abbiamo craccato Cioè, diciamo... Non siamo tipi No, siamo due tipi che craccano i programmi E quindi basta parlare di cazzate E diciamo la roba seria Basta E cioè che siamo anche su Facebook Ci... Ci siamo anche su Facebook Cazzo, ricorda il link www.facebook.com slash tutorials Su Twitter Poi siamo anche su Twitter Basta iscrivere tutorials Ok E cosa più importante è il blog Che è www.tutorials.blogspot.com .com .com Simone, mi hai letto nel pensiero Già Quindi, ragazzi, direi di far partire la prima parte di questo tutorial ultrativo La prima parte Questo è un tutorial, Simone Un tutorial con le palle Se... Pensate che anche voi il video sei con le palle Pondici in su Con le palle Certo che è con le palle Tutti i nostri video sono con le palle Ok, direi di andare avanti E facciamo partire il video Ok, ragazzi Innanzitutto Eccoci qui E... Direi di iniziare, Simone Sì, iniziamo Sei carico? Sì Allora, innanzitutto Creiamo una nuova composizione Quindi andiamo su composizione Nuova composizione Io do un HD Quindi HD V HDTV 720 29 fotogrammi al secondo Durata 4 minuti E diamo ok Oh oh oh, Stefano sei precisissimo Lo so Lo so, lo so Ok Fatto questo andremo a creare una nuova tinta unita Quindi livello nuovo tinta unita Colore nero A questa tinta unita andremo ad applicare un effetto Che si chiama Particular Quindi su effetti predefiniti Basta digitare Particular Eccolo qui Lo importiamo sulla tinta unita Davvero figo Perché? Andiamo avanti Come possiamo vedere otterremo tutti questi pallini Che adesso andremo a trasformare in stelle Quindi apriamo il menu Emitter Particular seconds Direi di dare un 50 Dai In questo modo, vedete Fatto ciò andremo a modificare anche la Velocità Quindi da 100 a 20 Emitter tip Andremo a mettere da point a box Wow E prerun da 0 a 100 In questo modo Modifichiamo anche questi valori Quindi Emitter size x Allarghiamolo, allarghiamolo, allarghiamolo Un po' di più In questo modo Emitter size y Anzi allunghiamo in questo caso Allarghiamo un altro po' Ed emitter size Ed emitter size 100 No, z è che 100 Stefano sei proprio una pirola Uff Allora, questo direi di aumentarlo e portarlo Ad un bel valore In questo modo Ok, fatto ciò Apriamo il menu particle Eccolo qui Life seconds Direi di dare un 15 Perfetto Size lo portiamo ad un 2 In questo modo E adesso cosa faremo? Andremo ad aprire il menu size random Anzi size over life E Facciamo questa specie di triangolo In questo modo Modifichiamo anche La modalità di fusione Quindi da normale ad aggiungi Quello qui E io direi che così è più che perfetto Vediamo un po' Si dai ci sta, ci sta e ci sta Fatto ciò andremo a duplicare questo livello Quindi ctrl c Oppure andiamo semplicemente su modifica Copia, modifica, incolla Ok, abbiamo due livelli Però questo livello andremo a modificare Il tipo di particolar Quindi da sphere andremo a mettere un cloudlet Eccolo qui Ed andremo a modificare Il size Dove sta? Eccolo qui Da 2 Direi di portarla un 50 e qualcosa Dai 52 Anzi 51 Andremo adesso a modificare L'opacità Quindi scendiamo Eccolo qui L'opacità da 100 A 0,5 Questo è per creare l'effetto ancora più figo Il colore da bianco Direi di dare un Celestino chiaro Anzi un celestino spento In questo modo Diamo ok E modifichiamo anche l'opacità della tinta unita Quindi premendo T sulla tastiera Quindi T Potremo modificare l'opacità Quindi da 100% a un 70% In questo modo Adesso andremo a creare Una nuova tinta unita Quindi andiamo sul livello Nuovo Tinta unita Colore nero Ed andremo ad applicare Un altro effetto Che si chiama Optical Cosa stai scrivendo? Optical Eccolo qui Optical Flares Allora questo è un effetto Che non tutti Hanno Quindi possiamo vedere Eccolo qui E' un effetto che non tutti hanno Perché appunto qui possiamo decidere i vari tipi di Vari tipi di riflessi lente Quindi Come dobbiamo fare? Come dobbiamo fare? Come dobbiamo fare? Troverete il Nella descrizione del video Un link di un video che vi mostrerà come scaricare Questo effetto Quindi una volta averlo applicato Eccolo qui Andiamo su Opzioni Naturalmente ragazzi Voi se l'avete comprato dovreste averlo Se invece l'avete Craccato Bastardi Quindi troverete il link giù nella descrizione Come ho già detto Perfetto Ci troviamo qui Abbiamo il nostro riflesso lente Vedete Su Show Presets Possiamo modificare Possiamo andare a vedere gli altri riflessi lenti che ci sono Quindi andiamo su Motion Graphic Eccolo qui Ed andremo ad applicare Come possiamo vedere ce ne sono davvero tanti Vedete qui Qui Ce ne sono davvero tanti Tutti molto interessanti Noi andiamo su Motion Graphics Ed andremo su Monster Flare Questo qui Per applicarlo Diamo ok Guardate che figata Lo posizioniamo a sinistra Per dare un effetto più figo Qui E adesso cosa faremo Innanzitutto diamo un po' di zoom Qui Ok Direi che all'inizio Andremo a modificare Vedete In questo modo possiamo modificare la lucentezza del nostro Del nostro riflesso Quindi Attiviamo il cronometro Direi che all'inizio lo possiamo abbassare un po' In questo modo Andiamo un po' più avanti Esattamente qui E lo alziamo Questo è tutto per dare un effetto più piccolo Andiamo un po' più avanti E lo abbassiamo In questo modo Andiamo un po' più avanti Un po' così Apriamo il menu Effetti Optical Flare Mettiamo copia quindi CTRL C Andiamo un po' più avanti CTRL V Questo perché Abbiamo copiato le posizioni che abbiamo dato al nostro Al nostro riflesso E le abbiamo incollate Per Appunto duplicarle Vedete in questo modo Questo rende l'effetto molto fico Ma molto ma molto fico Una volta fatto ciò Cosa faremo? Aspettiamo che carica un po' Ok vediamo giusto un po' l'anteprima Così vedete come l'effetto si Si alza la La Lucentezza del nostro Del nostro riflesso lente Si abbassa Si alza e si abbassa Adesso modifichiamo anche la posizione Quindi attiviamo il cronometro all'inizio Lo posizioniamo un po' più in qui Esattamente qui Andando un po' più avanti Direi di metterlo qui In questo modo Perfetto Adesso modifichiamo il metodo di fusione di questo Di questa tinta unita Quindi Attiva disattiva switch modalità Modalità da normale ad aggiungi Così abbiamo anche le nuvole dietro Fatto ciò cosa andremo a fare? Andremo a creare il nostro testo Che vogliamo visualizzare Quindi Andiamo qui strumento testo Io scrivo tutorial production Cosa sto scrivendo? In questo modo Se la p la faccio grande perché rende più fico Più fico Perfetto Fatto ciò cosa andremo a fare? Modifichiamo un po' E andremo a creare Un nuovo Un nuovo livello fotocamera Quindi Un nuovo livello fotocamera Diamo ok Attiva disattiva switch E andremo ad applicare il cubo qui Alla scritta Tutorials production Selezioniamo Tutorials production E cosa faremo? Cosa faremo? Cosa faremo? Andiamo sul livello fotocamera Premiamo P di posizione Attiviamo il cronometro E all'inizio Con lo strumento Traccia Z Fotocamera La posizione Sarà Esattamente più avanti Rispetto al normale Quindi Esattamente qui Andando un po' più avanti Direi di posizionarlo nella Normalità insomma In questo modo E Adesso andiamo qui Al Quindicesimo secondo E lo mettiamo ancora più indietro In questo modo Allora per rendere il tutto Ancora una volta più figo Andremo A Attivare l'effetto movimento Quindi questo attiva L'effetto movimento E lo attiviamo Alla scritta Tutorials production Possiamo vedere un po' L'anteprima Sinora Vedete com'è il tutto figo Ragazzi Questo è tutto figo Solo Tutorials production Ragazzi Allora aspettiamo un po' Che carica Che carica Insomma avete capito Adesso io non lo faccio caricare Perché comunque vedete Mano a mano va Sempre Modifichiamo un po' La posizione della fotocamera Un po' Indietro Esattamente qui E possiamo vedere che Mano a mano Andrà sempre più indietro Direi di andare a metà Quindi qui tipo Anzi qui Ed andremo ad applicare Su effetti predefiniti Un effetto che si chiama 3D Spirale Spirale Eccolo qui Spirale Azione in uscita riga Quindi lo applichiamo al nostro testo Come possiamo vedere Il nostro testo assumerà Una bella uscita Quindi un'uscita davvero figa Io direi di applicare anche un Bayore al nostro testo Quindi su effetti predefiniti Scriviamo Bayore In questo modo In questo modo Lo applichiamo alla scritta Torex production Wow Raggio Bayore Lo abbassiamo un po' Un 5 può andare bene Una volta aver applicato il nostro effetto Alla nostra scritta Quindi l'uscita Eccola qui Cosa andremo a fare? Andremo a creare un'ulteriore scritta Optical Flares Eccola qui Optical Flares Modifichiamo un po' la dimensione Della nostra scritta Così può andare bene E creiamo una nuova tinta unita Quindi livello nuovo tinta unita Oppure semplicemente CTRL più Y Diamo ok Diamo ok Nera Applichiamo l'Optical Flares Un'altra volta Eccolo qui Opzioni Ed andremo ad applicare Vediamo un po' cosa troviamo di figo Un altro riflesso lente Quindi questo può andare bene Dirti Anamorphic Come diamine si pronuncia Non lo so Diamo ok Metodo di fusione Aggiungi Ecco Lo posizioniamo anche questo qui Lucentezza Quindi Brightness Lo portiamo a un 0 Attiviamo l'opacità Andando un po' più avanti Aumentiamo la lucentezza In questo modo In questo modo Andando un po' più avanti La abbassiamo Perfetto Quindi Nel momento in cui la lucentezza è al massimo Quindi in questo modo Attiviamo anche posizioni XY Andando un po' più avanti Esattamente qui Questo riflesso lente si troverà qui Andando più avanti Il riflesso lente Un po' forse qui Esattamente qui Esattamente qui Il riflesso lente si ritroverà dall'altra parte Della composizione Verrà il nostro riflesso lente Però proprio nel momento in cui C'è il nostro riflesso lente L'opacità della scritta Optical Flares Clicchiamo T Sarà 0 E un tantino più avanti Tutto un po' Sarà a 100 Attiviamo anche qui il bagliore Per rendere il tutto più figo Optical Flares Abbassiamo il raggio A un 5 Anche questo E signore e signori Abbiamo ottenuto il nostro effetto finale E ragazzi questo era il nostro tutorial di oggi Quindi spero che vi sia piaciuto Non finiamola qui come due coglioni Se non vi è piaciuto Sticazzi E quindi Ciao Ora dobbiamo salutare un sacco di gente Stefano Un sacco di gente Quindi saluto tutto questo sacco di gente Perché non mi ricordi conto Non abbiamo internet in questo momento Quindi non possiamo leggere È colpa di Simone È colpa di Simone Quindi leggere ragazzi Non possiamo leggere no Non possiamo leggere i nomi Non potendo leggere i nomi Non possiamo salutare la gente che i costumi ha chiesto di salutare nel video Quindi ragazzi dovete terminarla qui Basta dire cazzate Basta dire strunciate Me ne manco Stefano Vai Vai via per favore Fammi salutare la gente Ok ragazzi Questo era tutto per oggi E adesso credo che andrò ad ammazzare Simone con questo Martello E... Hola Anzi Buenos dias Non sa neanche parlare spagnolo Allar Inse Lo Muo Inse Emocno Is Eh Che Inse Bene Per He Me bers